l'ambizione le maschere e probabilmente sono proprio quelle che scaccia via sono le cose che ho chiesto per me è stato riuscito a mettere le persone e beh c'è di sicuro intanto arriva una Guggen ospite dalla Valtina sono in Panadam e come sempre noi ovviamente diamo spazio alla musica e ve li facciamo ascoltare è il secondo è il secondo in questo in questo Sì, guarda il drum, in realtà io conosco Roby che è il maestro che anni fa lo conoscemo e mi ha parlato di questo progetto, di portare dei bambini, di farmi fare dei percussionisti e mi è interessata subito una cosa, io ho detto, sarebbe bello che a noto gli interruggi e lui mi fa, guarda io, se non mi credi, è da piccolo che il sogno ci vuole venire e infatti oggi magari, l'ho visto proprio oggi, mezzo otto anni fa, ho ancora nato il mio sogno e portato i miei ragazzi alla barra, sono tutti felici arrivano da Femfi con quelli che portano la tua